un saluto a tutti gli amici di smart world benvenuti nei due minuti con smart world di oggi giovedì 29 ottobre 2015 la prima notizia che ho scelto è il lancio di oneplus 6 non starò a commentare troppo il prodotto mi limito a dire che ha delle discrete caratteristiche tecniche un buon prezzo una buona dimensione e degli ottimi o comunque molto buoni materiali quello che voglio commentare è il fatto che sembra che molti di voi molti dei nostri lettori non abbiano apprezzato granché il prodotto e che ci siano a detta a detta di molti a quanto pare molti altri prodotti con cui possa competere io non sono completamente d'accordo con questa affermazione anzi non lo sono granché ed è per questo che voglio fare un po di discussione insieme a voi quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti l'unico prodotto che a un prezzo simile può vantare un hardware prodotti recenti simile è probabilmente lo Xiaomi Mi 4C ma se avete visto la nostra recensione il Mi 4C è sì un buon prodotto ma non è probabilmente il prodotto che molti si aspettavano ci spostiamo poi sul mondo Windows Windows 10 ha raggiunto i 120 milioni di installazioni in soli tre mesi dal lancio veramente un risultato incredibile ricordiamoci che Microsoft punta al miliardo in tre anni chissà se riuscirà veramente a farlo sicuramente è merito del fatto che l'aggiornamento a Windows 10 al momento è gratuito ha spinto sicuramente molti a fare l'aggiornamento e sono anche curioso di sapere secondo voi chi sono gli utenti che non hanno ancora aggiornato perché se ce n'è qualcuno fra di voi e se questi utenti comunque hanno intenzione di aggiornare più in là concludo mobileworld.it un gioco per per iOS si chiama Lumino City un gioco di parole che possiamo chiamarlo anche luminosity è questo più o meno il gioco di parole un gioco veramente molto ben fatto dal punto di vista grafico io personalmente non l'ho ancora provato ma il video è veramente affascinante e perché solitamente non siamo soliti parlare di giochi in questa rubrica ma l'idea è veramente incredibile ovvero fare una specie di puzzle game ma farlo veramente farlo nella realtà e riprenderlo con delle telecamere vere e poi farvi ci giocare all'interno di un gioco immaginatevi come se qualcuno avesse fatto un monument valley ma avesse veramente costruito i paesaggi per poi farvi ci giocare all'interno ma anche con telecamere che si spostano andate a vedere il video perché sicuramente vale molto più delle mie parole per questi due minuti con smart world è tutto un saluto da Emanuele Cisotti